Ciao bambini, oggi impariamo a fare un fiorellino con delle striscioline di carta colorata, dato che siamo in primavera. Allora ci servono striscioline di fogli colorati o bianchi, anche foglie di giornale, quello che ci piace, circa un centimetro e mezzo per la lunghezza che ci piace. Prendiamo la colla, decidiamo che facciamo più o meno qui un fiorellino, quindi mettiamo un po' di colla e andiamo ad attaccare qualche strisciolina. Di tanto in tanto aggiungiamo la colla. Facciamo prima una croce e poi mettiamo a metà. Facciamo un'altra croce. Adesso rimettiamo la colla al centro e pieghiamo i nostri pezzettini di carta che diventano i petali. Grazie. 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 Vediamo. Grazie. pezzettino di carta verde che fa la foglia oppure il gambo, lo incolliamo e per fare le foglioline un'altra strisciolina verde però se noi la mettiamo così viene la fogliolina piatta, se vogliamo farlo un po più movimentato dobbiamo girare il pezzettino di carta. Pronta la foglia. Questo è il nostro fiordino, poi possiamo farne quanti ne vogliamo, di che colore vogliamo.